I colossi del TCG di One Piece sono la vostra passione? State cercando un deck che ne possa impiegare diversi durante un match per mettere a ferre fuoco le difese rivali? Quale leader quindi potrà rispondere a tale richieste? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Con l'arrivo dello Starter 10 che ha visto tre figure più che note ricoprire ancora una volta il ruolo di leader si è iniziato a gettare le fondamenta per la venuta del quinto set che fra poco meno di un mese ci avvolgerà in dinamiche ancora più stravaganti e bizzarre. Con Luffy Total Purple che detterà legge assieme ad uno che la legge la mastica ogni giorno ovvero Sakazuki nella sua nuova veste bicolore un alter ego del primo personaggio ha attratto particolarmente la mia attenzione soprattutto per la sua capacità di rampare velocemente permettendosi così di chiamare a raccolta giganti da ogni dove pronti per prendere a pugni qualsiasi cosa gli si pare innanzi. Sto parlando del capitano più celebre della serie che vede la sua comparsa proprio nello Starter fresco di pubblicazione ovvero Luffy malato rosso viola. Nella profile di oggi quindi andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck scoprendone le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà tutti coloro che vorranno vestire i panni di cappello di paglia. Prima di continuare se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale così crescendo potrà portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Luffy rosso viola. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader che sarà totalmente diverso da ogni altro elemento della stessa categoria presente in gioco. Infatti con i suoi 6.000 punti di forza e solamente 3 vite a supporto egli vi darà la possibilità una volta per turno durante la vostra fase principale di aggiungere un don in stato di attivo se ne possiederete 0 o più di 8. La decklist in questione avrà diverse carte che aiuteranno il leader a rampare molto più velocemente e vedrà il quartetto di Otama, Sasaki, Jean-Bart, Trafalgar Law, Queen e Kid, il Triss di Ulti, la coppia di Brook, Missile Sunday, Shanks, Kaido e Luffy costo 10 e la monocopia di Barba Bianca per il lato character. Mentre per gli event sarà presente il quartetto di Garpoint, il trio di Leader Performer Disaster, la duplice presenza di Ulti Mortar e Thunder Bagua assieme alla sola Radical Beam che chiuderà questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno, procedendo in ordine di tipologia, per i personaggi l'ulti con i Bart che aumenteranno il grado di ramp dell'intero deck, i Kid ed i Barba che allungheranno la potenza del leader, i Luffy che attraverso i loro effetti risulteranno piuttosto ostici da affrontare e i grandi Rush rappresentati da Shanks e Kaido che, in fase offensiva, forniranno un grande supporto. Per gli event qualsiasi elemento tornerà utile per allungarvi la vita, quindi a partire dal Radical fino al Lead saranno tutti estremamente importanti a modo loro. Infatti dovrete attraverso questi ultimi cercare di incrementare il tasso di pescata grazie anche al supporto delle Measle Sunday e i Queen che vi forniranno supporto in tal senso, mentre in fase di counter i Mortar non solo vi faranno pescare ma aumenteranno anche di 2000 il valore di forza del leader, privandovi di due Don, certo, ma con Luffy, soprattutto nelle fasi finali di un match, non sarà un problema. Altra sinergia da tenere bene a mente sarà quella tra Kid e Law, visto che a costo 7 potrete far scendere in campo il primo, privandovi subito dopo di un Don attraverso il suo effetto, per poi attivare l'abilità del leader tornando a quattro risorse aperte, pronte per essere impiegate per utilizzare in gioco il Medico della Morte che non vi fornirà solamente un validissimo scudo attraverso la parola chiave blocker, ma l'evenienza vi consentirà di scartare due carte all'avversario se quest'ultimo ne possiederà sette o più in mano. Evitate invece di giocare Kaido non appena ne avrete la possibilità. Ho provato più di una volta a farlo e devo dirvelo, quei cinque donne in meno saranno come un macigno, soprattutto se non saranno presenti altri colossi sul terreno a supportare la manovra offensiva che avrete intenzione di mettere in pratica. Infine, i Luffy a costo 10 rappresenteranno un'arma fondamentale a vostra disposizione, data la loro peculiarità, soprattutto contro mazzi come Queen, che di blocker ne faranno pane quotidiano. Quindi, appena avrete la possibilità di servirvene, fatelo, sperando che, dall'altra parte, non ci sia una Red Rock con il nome di Cappello di Paglia stampato sopra. Calcolate comunque che, se avrete diversi colossi da utilizzare, anche quest'ultimo evento risulterà poco efficace, dato che ne potrà mettere in fondo al mazzo uno, sì, ma gli altri saranno comunque lì pronti a mettere a ferro e fuoco le difese rivali. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci, come sempre, la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Una sola parola. Ramp. Rampare sta a significare accumulare risorse utili per giocare carte fondamentali per il mazzo nel minor tempo possibile, e ciò dovrà essere un must. Se procederete lentamente, per voi non si metterà bene. Utilizzate quindi le carte che vi consentiranno di accatastare Don come se non ci fosse un domani, ed innescate l'effetto del leader appena potrete, per dare quella spinta in più alla manovra strategica del deck, che di certo ne risentirà più che positivamente. Per la fase offensiva, questo deck sarà totalmente volto alla causa. Più colossi scenderete in campo, meglio sarà, considerando anche i Queen e i Low Blocker come eventuali fonti di attacco se la situazione ve lo richiederà. Per quella difensiva ci saranno sia le Queen che i Trafalgar, che nel primo caso vi permetteranno di pescare due carte e scartarne una, e nel secondo, come già accennato, sfoltire le carte in possesso del rivale. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo le ulti, i Jean Bart, le ulti mortar o i lead, un colosso, preferibilmente luffi a costo 10, ed un kid. Se sarà così potrete procedere tranquilli, altrimenti mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, sarete discretamente protetti contro tutti, soprattutto nelle fasi iniziali del match, possedendo forza pari a 6.000. Ma non adagiatevi troppo sugli allori, nel mid-late game, prendendovi le misure per bene, gli avversari potranno davvero mettervi in difficoltà, calcolando che avrete solamente tre vite dalle quali attingere ulteriori forze fresche. Personalmente ho giocato contro Katakuri, Crocodile Queen, Trafalgar, Rosso Viola, Magellan, Big Mom, Lucci e Luffy Nero. E devo dire che, a parte quest'ultimo che mi ha dato del vero filo da torcere, per gli altri me la sono cavata piuttosto bene, riportando ogni incontro con parziale positivo. Per la win condition, la carta cardine vedrà proprio cappello costo 10 guidare la carica, specialmente se l'avversario giocherà blocker in quantità, ma anche in sua assenza vi basterà impiegare qualsiasi bestione a vostra disposizione per rendere la vita difficile a chi vi giocherà contro. Invece le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento, saranno ovviamente gli onnipresenti i Luffy, i Bart, i Kid con i Law, le Queen, gli Shanks con Barba e Kaido al seguito e gli Event, Garpoint e Radical Beam. Il resto starà a voi decidere se sostituirlo o mantenere intatta l'intera struttura. Infine, per la fase counter, avrete a disposizione 10 più 2000, che vedranno Otama, Brook e Sasaki rappresentare una seconda muraglia difensiva, che grazie ai 6000 punti di forza del leader, a volte basteranno per preservarvi da un assalto rivale pari a 7k. Prima di concludere, volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Luffy parte per primo, dato i suoi drop dispari, come Ulti e Bart, che potrebbero sembrare pari ad un primo sguardo, ma quel singolo utilizzo di un Dawn li renderà a tutti gli effetti un costo 3 per la prima e 5 per il secondo. Quindi, a differenza dell'O, che avrà un prezzo puro pari a 4, tutto il resto richiederà una curva dispari per essere incastrato al meglio all'interno della dinamica di gioco del deck. Per luffy a 10, invece, lui seguirà una strada del tutto sua, e vi consiglio di giocarlo quando avrete sul terreno i kid, ad esempio, per evitare di avere ogni Dawn tappato. Concludendo, dopo il ban temporaneo di Namia e compagnia, mi sono trovato a giocare solamente la versione nera del leader in questione, ma devo dire che, dopo una serie di test attenti e ben mirati, anche questa lista meriterà di essere giocata, magari apportandoci ancora qualche piccola modifica qui e là per renderla ancora più pericolosa. E voi, avete già testato le dinamiche che muovono questa nuova veste di cappello di paglia? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.